Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmo 34, versetto 19. La misericordia inesauribile di Dio. Quando le forze vengono meno e le afflizioni aumentano, Dio è pronto a sostenerci con la sua grazia, secondo le sue infinite ricchezze in Gesù. Le compassioni del Signore si rinnovano per noi ogni mattina. Il suo amore e la sua misericordia non hanno confini noti agli uomini. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 22. Prove, difficoltà e sofferenze edificano la nostra fede, rendendoci conformi all'immagine del Signore Gesù Cristo. Grazie all'aiuto e al conforto dello Spirito Santo possiamo sperimentare la pace di Dio anche in mezzo alle tempeste della vita. Il Padre Celeste non abbandona mai quelli che confidano in Lui. La sua bontà e la sua fedeltà durano in eterno.